Battistello, caro pittore e amico, ti scrivo queste righe in un momento di pace nella mia turbolenta esistenza. Solo ieri l'altro attraversando i vicoli della città sono rientrato nella chiesa del Pio Monte. Ho tolto il copricapo, riaccarezzato con lo sguardo il dipinto delle opere di misericordia. Su una grossa tela ho raccontato uno spazio angusto, uno slargo napoletano qualsiasi, tra vicoli e scalinate, delimitato a destra da un carcere e a sinistra da una scena oltre, fuori dal limite del quadro. Ecco le sette opere di misericordia corporale, tutte insieme, confondendosi tra di loro.